E' giunto adesso un momento molto particolare Perché Dolci Sinfunto siamo arrivati al Festival Italiano Show Vedo che manca la giuria Quindi senza la giuria non possiamo partire E come ho detto prima Alex Questi ragazzi che si esibiranno su questo palcoscenico Avranno la possibilità di partecipare al Festival Italiano Show Che si terrà a maggio E che tra l'altro il vincitore avrà una borsa di studio in euro In soldi In euro E poi un'altra cosa importante Avranno la possibilità di essere Diciamo Attraverso questo traguardo televisivo Essere comunque notati da produttori importanti e discografici Ecco Perché dobbiamo dire e sottolineare Che il nostro programma è in collaborazione con produttori Con produttori Con produttori Adesso diamo la parola a Mattia Branco Che ci elencherà i suoi giurati Eccoci qua Noi siamo in settore giuria Io vi presento subito il presidente della giuria Della nostra giuria Massimo Curzio Un grandissimo artista Massimo Ci vuoi dire come è composto la tua La tua I tuoi amici che stanno qui con te Per giudicare i nostri concorrenti Allora abbiamo fatto una selezione di personaggi dello spettacolo Tra cui c'è il Alessandro Giannini Un cantautore Poi Salvatore Fabio Tattoli Che è il percussionista Quindi ha un'esperienza anche nel campo musicale E c'è Rino Esposito Organizzatore di eventi E musicista anche lui Allora noi Vi passiamo subito la linea per velocizzare Poi semmai ci sentiamo dopo Noi i risultati vi li diamo alla fine Va bene? Va bene grazie Mattia Sentiamo Se non volete contattarci poi ci chiamate E noi interveniamo Va bene? Perfetto Grazie Ciao E come ha detto Mattia Dopo noi ci colleghiamo Dopo ogni esibizione Del cantante E vedremo poi i voti finali Adesso chiamiamo il primo concorrente Lui è Walter Eccolo qua Ciao Buonasera Walter Buonasera Walter stasera tu ti esibirai con un pezzo De U2 One Che io adoro tantissimo Anche io Il microfono? Sì Ok Signori e signori Walter E la giuria può votare Perfetto Che io adoro Grazie a tutti 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 8, 7 e per finire 6 Grazie Walter Perfetto E adesso passiamo al secondo concorrente Lui è a un nome di una stella, di un pianeta Uranio Uranio Eccolo qua è Uranio Ciao Ciao Urania Grazie Tu sei un cantautore Tu sei un cantautore Tu sei un cantautore Quindi canterai la tua canzone Che si intitola Svago Svagiamoci perché è una canzone dance Ah volevo chiedere a Brigadier se si potrebbe dormire in stazione qua stasera Niente 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 ok, va bene Niente Arrivederci Ciao giuria Ciao popolo sovrano Ciao Italia Uranio qui tra voi Questa è la versione elettronica La nostra famiglia Votre Cosa Guarda Qui ci senta Abbotti PoOT Tim Questa è la famiglia Guesta è la cosulazione bell Meyer Tu sei un canzone che ci senti E lì sei capo bello, mi fai mi E lì sei capo bello Ma canta canta il mondo è bello E l'altro bello E lì sei capo bello Sì ma tu prova se ho amato E lì sei capo bello E lì sei capo bello E lì sei capo bello Ma che me chiusa sono spato Ma sono spato E che... E lì sei capo bello E lì sei capo bello E lì sei capo bello E che... 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 Grazie Giulia Grazie, simpaticissimo Veramente complimenti Uranio Ma io penso che il tuo pezzo... Tu sei uragano, no Uranio? Il tuo pezzo si doveva chiamare mispoglio No, sbato No, uragano E adesso... Passiamo... Passiamo... Ai voti della giuria Partendo sempre da Giannini Alessandro Sei... Molto buono, grazie Sei... Sei... Sette... Sei... Sette... Sette... Benissimo Grazie, grazie Uranio Raccogli le tue cose per favore Grazie Sì... 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 Potete dormire Sì... Questa però è la stazione di servizio Ti devi spostare nella stazione principale Ok... Adesso dobbiamo presentare un giovane Lui si chiama Francesco... Francesco Caruso Un cognome importante Uranio proprio... Uranio ha stravagato proprio... Sì... Allora Francesco... Francesco tu hai un cognome di una canzone molto famosa Sì... Caruso del grande Lucio Dalla E stasera tu canterai una canzone di Moreno Sì... Che si intitola? Per confusione Francesco A voi! Caserta ci siete ancora o no? Con le mani su! La facciamo un po' di confusione Caserta! Tutti! Steca! Steca! Sono in stato confusionale Come uno sciocco Dopo sei shot Non fare quell'ultra molleggiato Percai un paio di shots Non sputo né piatti in cui mangio Ogni rima è un gancio di box Chiuditi in box E fai un po' di casino Festival italiano show Che confusione! Intorno a me È quasi come Dopo una bomba Che confusione! Intorno a me È quasi come Dopo una bomba Che confusione Sarà perché ti amo Forse ho sbagliato Meglio non ci vediamo Da Adam ed Eva Viene da chiedermi Noi chi siamo I politici vanno con Eva Ma adesso Eva C'è pomo da Adamo Che confusione! Di due non ne fate uno neanche Con la fusione Man! Super Saiyan di sta scena qua Intorno a me Dei Mister Satan Che si fresca Vedi il fuono Non si disinnesca L'ultimo secondo Game over Come ho cosa A caserta Questa la bomba Esplosa! Che confusione! Intorno a me È quasi come Dopo una bomba Che confusione! Tutti! Intorno a me È quasi come Dopo una bomba Tutti! Che confusione! Intorno a me È quasi come Dopo una bomba Che confusione! Che confusione! Francesco! Che confusione! Complimenti! Guarda! Io lo devo dire Hai avuto coraggio E hai portato Una novità Perché sto fatto Già si faceva anni 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 Mò l'hanno scoperto Mò lo stanno valorizzando Bravo Francesco! Giuria! Giuria! Passiamo La linea alla giuria Sei 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 Grazie Facciamo accomodare anche gli altri due Anni posso dire una cosa Concorrenti Ormai la giuria Io non sono di parte Io conduco il programma Insieme ad Anni La giuria ormai ha votato Però vi posso dire la mia Non sono d'accordo Con i voti? Sì Scusatemi se mi permette Allora diamo la parola a Mattia Mattia prego Allora noi Ha fatto La loro votazione E ha dato questo risultato Noi diamo solo il primo classificato Diciamo così Il vincitore di questa sera Va bene? Dobbiamo dire una cosa importante Mattia Che i ragazzi che sono qua Possono ripartecipare Nelle prossime puntate Quindi senza problemi Quelle che vince stasera Sì Allora facciamoci un po' più avanti Ecco qua Venite ragazzi Venite più avanti Quelle che vince stasera Sanno ospite per la prossima puntata Va bene? Sì Diciamo il nome del vincitore Siamo pronti? Presidente Siamo pronti? Siamo pronti? Il momento che stanno facendo un po' con le zoom Allora io penso che comunque le votazioni sono un momento importante Perché si discute e si capisce poi tra l'altro ed è anche imbarazzante Diciamo dare poi delle conclusioni finali con il vincitore Che tra l'altro è solo come vincitore di puntata Poi la finale vera e propria si farà a maggio Noi siamo quasi pronti Scusami Mattia Allora vogliamo spiegare a chiunque ci sta seguendo da casa Noi ogni puntata avremo dei concorrenti Sì Da questa puntata ne esce uno che non è il vincitore della puntata Assolutamente Ma avrà come diritto il passaggio alla finale In più avrà nella prossima puntata lo spazio per un'intera esibizione I ragazzi che restano in gara possono, devono ancora partecipare E tu da casa li puoi sfidare Ok? Quindi per chi volesse partecipare al Festival Italiano Show Tutto a posto? Niente di rotto? Ok Basta chiamare al numero 333 20 14 100 E poi aggiungersi al gruppo su Facebook alla voce Ania Show Allora i voti Mattia? Ecco siamo pronti Siamo alla conclusione Ultime somme Ultime somme Ok Ecco qua Ragazzi voi siete un po' emozionati vero? Non ho microfono, non ho niente È l'ultimo che ha cantato Eccolo qua Eccolo qua Sei emozionato? Sì Tantissimo? Tanto, sì Ma che devo dirti? Dai, su È normale, fa sempre piacere Sono momenti simpatici, di adrenalina, dai È certo, bello, frizzante, mi piace Sì Walter Sono emozionato, no Comunque, aspettiamo Ok Grazie Allora, se siamo pronti a una altra cosa Senti Alex, noi dobbiamo dire ai ragazzi che ci seguono da casa Che Ania Show dà la possibilità non solo ai cantanti Ma anche ai musicisti Cabarettisti, attori Se volete mettere in discussione il vostro talento e confrontarvi con gli altri artisti Venite qua e noi vi faremo salire sul palcoscenico di Ania Show per avere poi la possibilità di stare in televisione al Festival Italiano Show Allora, se siamo pronti al finale Eccoci qua, eccoci qua, siamo pronti Allora, lo dai il presidente in nome del vincitore? Sì Va bene, Massimo, a te la parola Passa il turno Walter Tammaro Walter Tammaro Grazie, grazie Ecco qua, Walter passa il turno Perfetto Ragazzi, per voi non è che è finita qua, eh Walter ha passato il turno e andrà direttamente al Festival Come abbiamo già detto, ma voi avete la possibilità di ritornare ad Ania Show No, no, è finita, faccio la chigri È finita, è finita Sì, non è finita ancora Sì, non è finita ancora Sigla Festival Italiano Show Grazie Grazie Grazie